Un settimo posto in questa stagione, si aspettava questo risultato o altro? No, io mi aspettavo un buon lavoro, mi aspettavo la crescita dei ragazzi presi ad agosto in maniera molto veloce, come tutti sanno. E credo che alla fine, come lavoro sotto gli occhi di tutti, sia stato un lavoro eccellente. Abbiamo visto, tra l'altro, una crescita esponenziale da parte di tutti i giocatori. Quindi il lavoro è stato portato a termine. Quindi al di là del risultato che poi è relativo, quello che ci interessava è vedere questi giovani crescere sotto l'aspetto tecnico, tattico e umano soprattutto. Cosa vuol dire lavorare con ragazzi di questa età? Non è semplice. Oggi purtroppo la maleducazione in giro è tanta. I ragazzi non sono più educati come era prima, ma non perché prima erano migliori, ma perché si parlava di più dell'educazione, del rispetto, dell'accettare le decisioni, del sacrificio. Oggi purtroppo la cultura giovanile è fatta da pensieri strani, cioè senza meritarmi niente devo per forza avere le cose. E quindi non era facile affrontare una prima esperienza del genere, ma col lavoro, come abbiamo visto, le cose si ottengono. E quindi questo è un monito per chi veramente volesse vedere cambiare le cose. Bisogna lavorare, bisogna seminare e quando c'è una buona semina c'è anche una buona raccolta. Anche quando le cose non andavano benissimo, anche nei risultati, la perseveranza, il credere fino in fondo in quello che si fa, la passione che hai verso qualcosa ti fa raggiungere degli obiettivi. E credo che i miei ragazzi siano stati da questo punto di vista un esempio, perché fino alla fine hanno creduto nel lavoro che abbiamo fatto e hanno creduto nei loro mezzi. Come era lei quando aveva l'età dei ragazzi che ha allenato in questi mesi? Qualcosa in comune lo avevo, ero magro, ero ancora non sviluppato fisicamente, mi ricordo facevo un po' fatica. E questo è un incoraggiamento che faccio a tutti quei ragazzi di quest'età che ancora fisicamente non sono strutturati, ancora non si sono sviluppati, di continuare a crederci. Anche se oggi hanno un po' di difficoltà, ma può succedere che nel giro di due o tre anni le cose cambiano, quindi mai smettere di sognare. E quindi io ho sempre sognato, io ero così, ero un ragazzo che ha sempre sognato di diventare calciatore e non mi sono mai preoccupato dei giudizi negativi. Sono andato avanti, ho dimostrato a chi non credeva in me che invece avrebbe dovuto crederci. Un allenatore, un professionista che si rapporta con ragazzi molto giovani, ha un ruolo importante anche fuori dal campo secondo lei? Allora, credo che alla base di tutto, quando sei in prima linea e sei responsabile di qualcosa, ovviamente devi essere un modello di vita.